Da un'indagine della Polizia Stradale in collaborazione con Asso Gomma, si è scoperto dal 2003, data dell'inizio dello studio a oggi, che un'autovettura su 5 e un furgone su 3 circolano con gomme lisce o non omologate. Lo spaccato che emerge è inquietante perché i dati rispetto agli ultimi anni sono raddoppiati e nel caso dei furgoni anche triplicati. Oltre al liscio, il 6% delle vetture controllate aveva pneumatici non omogenei con un piccolo del 15% per i mezzi di trasporto leggero. Solo l'anno scorso le vetture che presentavano questa non conformità erano il 3,4%, circa la metà. Per equipaggiamento non omogeneo si intende pneumatici diversi sullo stesso asse per marca o modello oppure per diverso tipo, estivo o invernale, su due assi. Sostanzialmente costante e un leggero calo il numero dei veicoli controllati che, nonostante il periodo ormai estivo, montava ancora pneumatici di tipo invernale, cioè marcati M più S con o senza pitogramma alpino. Una quantità sempre rilevante pari a circa il 12% ed il 14% rispettivamente delle vetture e dei mezzi di trasporto leggero controllati. Una pratica sconsigliata sia dal Ministero dei Trasporti che dai costruttori di pneumatici perché allunga il tempo di arresto in frenata, con effetti potenzialmente negativi sulla sicurezza stradale e sui consumi di pneumatici e di carburante. In Veneto il 6,73% delle auto montava gomme lisce sulla propria vettura e l'8,33% su furgoni, dato in aumento che nel 2014 vedeva solo il 2,2% dei veicoli non a norma. E sempre nel Veneto le autovetture con gli pneumatici non omogenei sono il 6,33%, i furgoni salgono in vetta con il 19,44%, mentre dal 2014 le infrazioni in ambito gomme erano solo il 3,3%. Il 4,3% del 5,4% 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 del